Mi pare che le reazioni siano positive, mi pare anche da parte di settori che si poteva temere avessero atteggiamenti, non dico contrari, ma polemici, un po' negativi, eccetera, eccetera, in realtà mi pare che stiano tutti comprendendo anche costoro l'importanza enorme che potrebbe avere per Venezia l'organizzazione di questo grande evento.